Quando ero bambino, mia madre mi comprò la mia prima canna da pesca. Oggi, con lo stesso piacere nel pescare, lo ritrovo nella Tenkara. Una canna, una lenza, un'esca, una tecnica antichissima e affascinante, svelata in modo semplice e divertente. Aveva fretta ad andarsene! Piacere Tenkara, dal 6 novembre, ogni domenica alle 21.30, in esclusiva su Pesca, canale 236. Piacere Tenkara, dal 6 novembre, ogni domenica alle 21.30,